Oggi ho comprato un tagliere di legno al supermercato e ci incideremo sopra a fuoco una bella beccaccia Mi raccomando vi ricordo sempre di mettere un piccolo like e di commentare Dai e dai e vi voglio numerose e bellicosi come sempre Per chi mi vuole supportare a portare avanti il canale si può anche abbonare e buona visione Per chi mi vuole supportare a portare avanti il canale Per chi mi vuole supportare a portare avanti il canale Per chi mi vuole supportare a portare avanti il canale Per chi mi vuole supportare a portare avanti il canale Per chi mi vuole supportare a portare avanti il canale Per chi mi vuole supportare 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 avanti il canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.